Sei stanco di indossare quelle fastidiose mascherine da gomito? Non ne puoi più di quelle irritanti mascherine da mento? King del Web ha la soluzione per te! Da oggi la lotta al Covid la facciamo noi, lanciando sul mercato la fantastica mascherina da faccia! Studi scientifici hanno dimostrato che la mascherina da faccia è molto più efficace rispetto alle sue concorrenti da mento e da gomito. La mascherina da faccia non è soltanto un mezzo di protezione per te e per gli altri, è infatti utilissima anche come nascondi cibo in mezzo alla gente! E se il tuo ragazzo è un cesso di merda, con due mascherine da faccia potrai portarlo in giro senza vergognarti! E allora, cosa aspetti? Ordina subito la tua mascherina da faccia sulla nostra pagina Instagram! In omaggio la fantastica t-shirt Svestor con la scritta Allora non sono proprio un coglione! Contattaci subito! E ricorda, la mascherina da faccia è un prodotto king del web! Yellow Sun Marine! Yellow Sun... Yellow Sun... Grazie per la visione